ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un mega video haul di acqua e sapone ebbene sì acqua e sapone ha vinto su di me ho dovuto acquistare dei prodotti perché lo so è una cosa che succederà qualcosa noi ci laviamo e vai noi ci laviamo automaticamente dobbiamo andare da acqua e sapone da qualsiasi ovviamente distributore di detersivi ammorbidenti bagno in schiuma eccetera eccetera vi volevo far vedere che un paio di giorni fa con l'acquisto non mi ricordo di che cosa sinceramente la ragazza mi ha dato la bottiglietta questa qui di acqua e sapone dove potete mettere l'acqua all'interno acqua bibite quello che volete e anche il gancino per portarla in giro non lo so se mio figlio andrea visto che sta andando a scuola per l'ultimo anno la vorrà gliela gliela adoro a lui allora iniziamo subito e io inizierei proprio nel farvi vedere due detersivi che erano scontati e c'erano la confezione di tre questi io l'ho presi con il cartone direttamente dove c'erano tre di questo e tre di questo questo è l'accio detersivo biogenizzante e questo per colorati e questo è quello tradizionale tra virgolette io li utilizzo tutte e due mi sono trovata bene sempre con tutte e due e quando c'è l'offerta quando c'è l'offerta d'acqua e sapone io prendo sempre una confezione di una una confezione dell'altro io mi sono trovata veramente molto molto bene e niente che dirvi ottimo ottimo acquisto è ottimo anche il prezzo aspettate che le metto a terra poi ho acquistato per i pavimenti sempre questo qui di ace ed è ace pavimenti igienizzante ed è alla lavanda e agli oli essenziali a me questo piace tanto specialmente per fare la scala dove sale e scende sansone sansone se non sapete chi è è il mio cane ed è un cane abbastanza di abbastanza grosso quando scende sale le scale ovviamente si sente quell'odore che è passato sansone perché avendo un pelo abbastanza lungo e avendo anche il pelo nero si sente sinceramente si sente e questo qui invece mica mi camuffa proprio l'odore quindi io lavo le scale con questo qui lo utilizzo solo ed esclusivamente per le scale e sinceramente mi sono trovata bene quindi l'ho voluto ricomprare sto provando questa profumazione perché se non mi sbaglio questa profumazione ancora non l'avevo provata quindi ottimo è sempre pace poi ho preso il sapone liquido e ho preso questo qui di spuma di champagne ed è uguale al bagno schiuma che ho utilizzato che vi ho fatto vedere anche negli scorsi video mi sono trovata bene col bagno schiuma ho voluto prendere il sapone liquido perché ho comprato non lo so se lo vedete prima o dopo ho comprato il dispenser per far uscire il sapone perché spesso capita che i ragazzi portando il cane fuori toccano il dispenser automaticamente dopo si lavano le mani però lo pulisco nel dispenser no quindi cosa ho pensato di comprare il dispenser quello che avvicinate la mano non lo so se ve l'ho fatto vedere nel video ora mi sto mettendo un dubbio comunque l'ho preso da casanova voi avvicinate la mano al dispenser tipo così avvicinate la mano al dispenser e lui esce un tipo una noce di sapone nelle mani e quindi non c'è la possibilità che loro toccono cose e poi si lavano le mani benissimo perché abbiamo la manovella che si alza non i pomelli che girate e quindi ho preso questo e infatti il profumo gli è piaciuto a tutti perché questa è la seconda volta che lo compro e io ho preso due profumazioni questo che è al latte di mandorla e burro di karité e poi ho preso anche questo che questo è olio di macadamia e quinoa io sinceramente mi trovo bene con le due profumazioni perché avevo sentito il bagnoschium e quindi l'ho voluto prendere devo dire che sono ottime mi piacciono e quindi prese subito sempre per quanto riguarda saponi per le mani e tutto ho preso in offerta speciale le saponette di spuma di champagne c'era sia questa profumazione che quella con il colore più scuro non so se è il marroncino più scuro quello non mi piace assolutamente perché ho sentito l'odore del bagnoschium e non mi piace questo invece la profumazione mi piace tantissimo e quindi l'ho voluta prendere le saponette le utilizzo solo io io mi lavo le mani con le saponette io mi lavo il viso con le saponette automaticamente quando finisco di utilizzarle io li risciacquo e li posiziono nel portasaponette cosa che spesso mi capita di vedere che loro non fanno quindi io le saponette le utilizzo io e invece il dispensare con il sapone le utilizzo i maschietti che sono più devono fare tutto velocemente tutte queste le utilizzo io perché io di norma mi lavo il viso con la saponetta di solito utilizzo felce azzurra dav o altri tipi di marche che sono diciamo leggere che non hanno odori o altro però sinceramente voglio provare queste qui avendo provato anche il bagno scluma poi sempre per quanto riguarda la pulizia e tutto ho preso lo shampoo questo qui di neutro roberts io con questo mi ci trovo bene sapete tutti che lo utilizziamo tutti e quattro e quindi ho voluto prendere non una non due ma ben tre tre shampoo scusate perché ci troviamo bene poi era in offerta 99 centesimi quindi un euro e quindi l'ho preso il profumo è ottimo e sinceramente mi ci trovo benissimo e quindi ormai lo prendiamo soltanto questo è inutile prendere uno femminile uno maschile prendiamo questo è neutro e ci troviamo tutti bene per quanto riguarda sempre i capelli ho preso due maschere per i capelli e sono queste qui della fruttis allora io ho preso questo che ha le bacche di goji che è per maschera triplo uso per capelli colorati colore brillante e poi ho preso questa la banana che è nutriente ed è una maschera triplo uso per capelli secchi io ho i capelli sia secchi che colorati io di questa delle garnier ho provato quella al mango si era al mango perché si vedevano si 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 al mango mi sono trovata benissimo ma veramente molto molto bene invece quello che ho fatto vedere nell'all precedente quello con il tappo verde ora non mi ricordo di che cosa era non mi piace non mi piace assolutamente non mi non mi distriga i capelli io ho i capelli secchi ma si si attaccano l'uno con l'altro tipo non ci lasceremo mai e quindi mi danno fastidio proprio nel spettinare i capelli e devo dire che queste maschere sono fantastiche io quella la sto finendo ovviamente perché la devo utilizzare ma la utilizzo al contrario prima di lavare i capelli utilizzo quella maschera e poi mi lavo i capelli e devo dire che un pochettino di morbidezza la dà ma queste sono le migliori veramente in assoluto e queste le ho prese sempre scontate un'altra cosa che ho preso perché ho visto delle recensioni qui su youtube e sinceramente la voglio provare è questa ed è un acqua micellare un acqua micellare di garnier e questo è il profumo di rose acqua di rose queste per pelli spente sensibile quindi ciao piacere stefania e quindi dice che strucca deterge e illumina senza risciacqua quindi la voglio provare io di solito ho acquistato quella quella gialla bifasica e mi sono trovata benissimo perché quella in due secondi mi struccava gli occhi perché se faccio dei trucchi abbastanza particolari quella in due secondi me li strucca quindi ottimo al bacio nello scorso diciamo negli scorsi acquisti che abbiamo fatto ci hanno regalato due cerchietti perché abbiamo speso un bel po' io con la mia migliore amica e altre cose che poi vi farò vedere allora ho ripreso il panno questo qui per lavare a terra perché io ne ho uno ma sinceramente quando poi lo metto nella lavatrice ne vorrei utilizzare un altro proprio perché capita spesso specialmente in questo periodo che sta più viginando devo dire che sta più viginando quindi capita spesso di lavare il pavimento e tutto e quindi ho ripreso questo perché io ho tutta la confezione e ho ripreso soltanto il panno per lavare a terra poi ho preso un'altra confezione di salviettine queste sono quelle che io utilizzo qui nella postazione era scontata e quindi l'ho voluta prendere c'era soltanto questa profumazione perché le altre già erano finite c'è stato proprio una specie di assalto per quanto riguarda acqua e sapone dove non abbiamo trovato quasi niente sinceramente non so cosa sia successo ma non c'era quasi niente poi ci ha anche regalato questo che sarebbe un portacellulare che lo darò alla mia migliore amica perché io ho un periodo che non guido quindi non mi serve assolutamente e quindi lo metterà tipo per tenere il cellulare in posizione poi ho preso questi che sono il cattura colori io li prendo spesso specialmente quando costano pochissimo li prendo perché li inserisco quando faccio le magliette dei ragazzi perché abbiamo anch'io oltre le magliettine bianche sinceramente anch'io ho delle magliettine colorate e quindi di solito li metto proprio per non diciamo per non sbagliare il lavaggio perché se in caso c'è la possibilità questo si aggrappa il colore quindi non c'è diciamo non ci sono problemi mi sono dimenticata che avevo preso la volta precedente altre due maschere queste qui per i capelli perché quando ci sono andata ho preso prima questi poi l'indomani ho trovato quelle scontate quindi ho preso quella della Garnier queste sono quelle della L'Oreal e sono delle maschere protezione colore e ho preso sia questa che questa all'olio di jojoba che per capelli molto secchi cioè non è che cambia perché guardate le maschere sono così cioè io ho una fissa colorati e per capelli secchi di queste non vi so dire perché non mi ricordo se altre volte le ho provate perché vi dico sempre che io cambio quindi non vi so dire di preciso se le ho prese oppure no poi andiamo per quanto riguarda i prodotti per lavare a terra oltre l'ace che vi ho fatto vedere poco fa avevo preso l'ajax sempre per quanto riguarda allora io di solito ho il detersivo per pulire la cucina oppure per pulire la stanza da letto, la stanzetta e poi ho il detersivo per la scala che ne voglio uno abbastanza forte e poi un altro per il bagno e questo è quello che viene utilizzato per il bagno infatti io l'ho travaso in un'altra bottiglietta per la parte di sotto perché ne ho due bagni quindi uno lo lascio qua sopra e uno lo lascio sotto io utilizzo questo e l'ho messo anche nello spruzzino che era finito che era per quanto riguarda i vetri l'ho messo là e io pulisco il bagno nel senso proprio tutta la ceramica del bagno e sinceramente ho visto qualcuno che passava un insetto lo utilizzo anche per pulire i rubinetti e tutto sinceramente mi trovo bene pulisco il bagno, le piastrelle e così via e quindi ho preso questi abbastanza forti ma è adatto per il bagno invece per quanto riguarda il detersivo normale sempre di Ajax perché questo era nella profumazione questo è disinfettante multiuso questo invece è quello classico ed agisce contro ogni tipo di sporco freschezza e pulito e ho preso anche questo mi ci trovo bene, mi piacciono e come profumazione è abbastanza forte da eliminare anche gli odori che ci sono ovviamente nel bagno e tutto poi ho preso questo invece per quanto riguarda la cucina stanno arrivando messaggi questo per quanto riguarda la cucina e le stanze perché ha un profumo proprio di freschezza assoluta e mi piace tanto proprio mi piace questo odore sentirlo nelle stanze ed è un odore bellissimo questo è Easy Clean e Orchidea Selvatica devo dire che mi piace mi piace tantissimo l'odore e quindi l'ho preso perché se non mi sbaglio l'ha preso la mia migliore amica quindi l'ho sentito da lei poi vi parlo di altri due ammarbidanti i primi due ammarbidanti che vi ho fatto vedere considerate che io ne prendo certe volte ne prendo uno, 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 uno certe volte ne prendo due di uno, due di un altro questa volta ne ho preso uno per tipo e ho preso anche questo della Vernel perché mi è piaciuto la profumazione c'era lo sconto però ovviamente c'è la fregatura perché questo è più grande ovviamente di questo perché questo ha quanti è un litro quant'era? sì, questo è un litro questo invece è 700 ml però questo il prezzo era più basso di questo quindi i miei occhi sono andati nel prezzo più basso quindi stavo prendendo questo che l'ho preso lo stesso e la mia amica mi ha detto dice ma guarda ti fai fregare dice come tutte le altre persone perché questo ce ne ha molto di più ed era tra virgolette un paio di centesimi in più di questo quindi ho voluto prendere ed è vero il prezzo ti frega molto molte volte e quindi ho preso questo qui della Vernel ed è Aromatherapy mi piace tantissimo io l'ho sentito l'odore questo già l'ho acquistato altre volte quindi ottimo come ottimo questo qui della Nelore queste ne ho presi due perché mi piaceva molto la profumazione ed era scontato e questo è pure un litro questo ne ho presi due e vi dico che è ottimo ottimo l'ho utilizzato le ho lavato i giubbotti ai miei figli perché sta facendo un po' di freschetto quindi le ho lavato i giubbotti e le ho fatte asciugare all'aria ovviamente non le ho messe nell'asciugatrice è bellissimo un odore di freschezza assoluta e nei giubbotti è rimasta proprio questo odore infatti le ho scesi sotto le ho messe nelle armadi e si sentiva proprio quando si apre l'armadi si sente quell'odore di freschezza ha un odore veramente molto molto bello mi piace tantissimo mi piace mi piace tantissimo e infatti già uno è quasi finito quindi questo tra un po' sarà sopra la lavatrice poi per quanto riguarda i piatti ho preso che erano scontati a 99 centesimi questi qui della Ocean sapete tutti che io li acquisto mi sono trovata sempre bene quindi ho preso arancio blu e quello verde io quando ci vado li prendo tutte e tre perché mi piacciono tutte e tre quindi sapete tutti che li miscelo con altri detersivi per i piatti sinceramente mi ci sono trovata bene poi per 99 centesimi sinceramente è un ottimo acquisto poi ho preso questo che è un gel denso per il vc perché mi capita spesso che il mio vc non scarichi bene ed è un profumo ed è un problema proprio delle mie zone capita spesso che non ha tipo una specie di blocco non lo so il perché non me lo dite noi gliel'abbiamo chiesto un sacco di volte al comune e tutto ma nessuno ci ha dato risposta questo è un stura scarichi bloccati e io questo lo utilizzo anche nel lavello qua sopra perché mi capita spesso che questo lavello a differenza di quello là sotto si blocchi anche soltanto con l'acqua e sapone non lo so il perché abbiamo diciamo tolto diciamo che c'era tipo un blocco qualcosa che ostruiva ma niente lo stesso non sappiamo il motivo già una volta mio marito aveva fatto uno scasso per sbloccare perché era tutto intasato agli altri non gliene frega e quindi abbiamo fatto tutto di testa nostra quindi amen poi ho preso questo che è un disincrostante qualità professionale perché il è una il vc del bagno sotto ha dei problemi di calcare per quanto riguarda il residuo di acqua questo qua sopra ho cercato di sistemarlo e con l'acido muriatico sono riuscita a sistemarlo quello là sotto niente proprio nemmeno le mazzate ci possono quindi ho cercato di prendere altri prodotti e ho preso questo super disincrostante super disincrostante qualità professionale questo può essere utilizzato per gabinetto bidet lavandino e doccia quindi dual power speriamo di trovarmi bene e di riuscire nel mio intento poi ho preso questa marca che l'ho visto in un video di una ragazza di una signora ora non mi ricordo il nome scusami è la io guardo spesso i suoi video perché lei pulisce casa anche ha i cagnolini che vanno in giro e tutto lei ha un carrellino ora non mi ricordo il nome ti chiedo scusa lei di solito ve la consiglio anzi per quanto riguarda i video di pulizia e tutto perché lei ha un carrellino si è fatto un carrellino dove mette tutti i prodotti e se li porta dietro io mi viene un po' difficile perché abito in due piani quindi mi viene un po' difficile comunque lei parla sempre di questa marca e io ho preso questo che è un pulitore c'è scritto quasar pulitore stellare ed è cucina superfici moderne igienizza senza loni e protettivo stellare mi è sembrato ma non è che la produttrice è Valeria Marine no vero perché stellare poi ho preso questo qui per l'acciaio che dicono che anche questo è buono e poi il prodotto che lei utilizza che vedo spesso nei suoi video è questo qui per i vetri e quindi l'ho voluto prendere perché sinceramente io adoro quando lei pulisce casa perché mi rilassa non so a voi ma a me rilassa e quindi vedo lei che pulisce casa vorrei che la mia casa si pulisse così però niente quindi ho voluto prendere questi prodotti proprio per provarli perché avevo visto tutto nei suoi video quindi speriamo di trovarmi bene se non mi trovo bene ti vengo a prendere fino a casa e niente questo è tutto per quanto riguarda acqua e sapone ditemi cosa ne pensate di tutti questi bellissimi acquisti lasciate perdere niente che dirvi ragazzi spero ovviamente che i miei acquisti vi siano piaciuti se avete delle mi volete dire su per giù qualche prodotto per pulire il gabinetto nella parte interna dove reside l'acqua scrivetemi un commentino qua sotto che io accetto volentieri i vostri consigli per quanto riguarda questo video è tutto e io vi saluto vi mando un gustissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate se vi va noi ci vediamo al prossimo video vi� filled viď vi 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 Grazie a tutti.